Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi parlerò di qualcosa che molti di voi conosceranno Già, incominciamo L'album di Fabicei Favicei Panini Favicei Panini Non fare Guardate Inizia Ora ve lo faccio vedere che ho preso dei pacchetti Qua ovviamente Comincia con la pagina iniziale Con la cosa Di solito si mette In mezzo Quest'anno c'è il post C'è C'è il post Non quest'anno Perché è solo quest'anno uscito Qui c'è C'è curiosità su di me Ancora curiosità su di me Vedete c'è una carta Lui Lui Qua C'è questa C'è la doppia Tra l'altro Appena preso Tre pacchetti In realtà quattro Perché Detto c'è scritto Tre Ma ne ho trovati quattro Proprio come Proprio come Proprio Sono uguale C'è Sono uguale Non potete dire che non sono uguale No No Qua Le mie letture preferite Topolino E qua andiamo Ah Comenti epici Qua Una carta C'è scritto Non sono troppo sexy Vero Non sono troppo sexy Così Guardate Guardate La pagina dopo Non c'è niente Dunque Sempre momenti epici Poi qua Una carta speciale Vedete Questa C'è scritto Mi sa che l'ho legger Mi sa che l'ho leggermente Intasato Un cesso Che frasi sublime Ragazzi Vabbè Brillante Oh mamma Poi qua Poi qua Paru Pa De Panane Paura Mille Vedete Questa Staccata Perché la voglio finire Vedete qua Completato Uno C'è questo Vedete Vedete Questa Questa qua Ragazzi Sembra che così Cioè Non sembra neanche che c'era una figurina Che dovevamo mettere una figurina Cioè È proprio Fantastico Mi ha fatto benissimo Mamma mia Vabbè Sto facendo È l'unico del poster Ragazzi Vedete Qua non so nient'alto Poi dopo Altre cose Qua niente Sembra paura Mille Qua Scatti 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 doni No Scatti deniti Inediti Che cosa Inediti Ragazzi Non l'avete visto niente Qua senza Sempre Scatti Inediti Qua Ah Ho questo La mia collezione La collezione La mia collezione L'ho trovata pure Fa un genio Non mi ricordo Appena ho visto Per il video Con l'albero No Dai Vedete Qua fa un'altra Non c'è niente Ma poi Ma poi Ma poi Ma poi C'ho Queste Sono Vabbè Tanti Mamma mia Qua C'è l'ultra pagina C'erano tantissime Tre Ok ragazzi Ho finito l'album Adesso Voglio fare Vedere Far vedere Vedete Queste carte qui Che non si Posso attaccare Sono carte 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 Sì 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 Poi Giorno Ok ragazzi Allora Qua c'ho Farijay Farijay Molto figlio Va bene Farijay Fighissimo Con gli occhiali Oltre Farijay 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 Poi 8 dead Qua Sono preso Proprio Ma che cacchio sta a fa' Ah questa Che cacchio sta a fa' Infatti Vedete Oh che cacchio sta a fa' Oh credo Poi Qua in macchina Oh Vedete In macchina In macchina In macchina In macchina Che la sta No Dove ne metterò ieri Oh Beh Ragazzi Non lo so Non so che Ce ne sbagliamo con lui Il migliore Con il samurai 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 Poi Momenti 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 15mila Momenti 15mila iscritti Sì Vedete 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 un figlio aprile scuola i tipico anche a testo quella trattato domani il pubblico qua il super pacchetto sono uguale ragazzi guardate 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 la Wanka la sto riempiendo vedete sto riempiendo 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 più faugeo addio 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 qui arrabbiatissimo regia ma io che Mario ti ammazzo e qui l'ultima carta che è che fa rispondere da molto figo e questa mano sta prendendo rispo ok ragazzi ho finito questa apertura ragazzi l'apertura non è vi ho fatto vedere com'è l'album che ho comprato oggi il sabato quindi ragazzi ci vediamo nel prossimo video bello a tutti ah devo fare una cosa bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono Favij e oggi siamo in un nuovo vlog dopo tre secondi dai ragazzi se finito il video ci vediamo al prossimo ciao